The New Stories. La tua informazione libera. Tempo insieme, lontani dal trambusto della città. Tuttavia, la coppia non aveva previsto ciò che il destino aveva in serbo per loro. Nei pressi del massiccio di Bucegi, nell'area meridionale di Brazov, l'orso ha attaccato improvvisamente la ragazza, infliggendo le ferite letali. L'animale, descritto come violento e aggressivo, si è avventato sulla giovane, lasciandola senza scampo. Il fidanzato della ragazza ha lanciato l'allarme, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per salvarla. I soccorsi, giunti sul posto, hanno avuto difficoltà a recuperare il corpo a causa della paura che l'orso potesse tornare. L'animale è stato catturato alcune ore dopo e, ritenuto pericoloso, è stato abbattuto dal nucleo di emergenza intervenuto. La zona è fortemente popolata da orsi, con una stima di almeno 8000 esemplari in quell'area specifica. Buon giornato!